buongiorno da grangale in cucina ed eccoci qui con il nostro bel risottino con zucca e zola gli ingredienti li abbiamo detti a precedente video comunque è veramente c'è un gran buon profumo di risotto con zucca e zola lo consiglio anche magari con ricotta per i bambini è un gusto veramente molto che ho usato zola dolce un gusto retro amaro o dolciastro con la zucca e tipo un agrodolce comunque io vi ringrazio tutti i like tutti youtube tutti i femmini che mi avete dato tanti auguri ieri in gran gala in cucina il mio compleanno andato veramente bene e vi ricordo sempre di aprire la campanella e scrivetevi e mettetemi tanti like dolci dolci a più tardi con la prossima ricetta in gran gala in cucina